Giovedì 10 agosto, torna l'edicola su TRMH24, lo spazio nel quale leggeremo i giornali principali di oggi. Partiamo subito dalle prime pagine del Corriere della Sera e della Repubblica. Partiamo dal Corriere della Sera che titola in primo piano Banche, il Governo va avanti. Meloni, tassa su ricavi ingiusti, scintille sul salario minimo, vertici al rischio. Gli istituti riducono le perdite in borsa, Salvini, il prelievo servirà per aumentare stipendi e pensioni. E poi vediamo Taglio Alto con una fotonotizia. Naufragio a Fonda, Barchino a Lampedusa e strage di migranti, morti in 41, di cui tre bambini. E poi ancora a Chievo il ministro Kuleba si può trattare con la Russia ma mai al tavolo con lo Zar. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, Taglio Basso, leggiamo Raid contro il pirata che travolse Chris. Verona in 30 davanti alla casa, ti ammazziamo, il padre della vittima no a vendette. Ed ora invece ci spostiamo sulla prima pagina della Repubblica. Vediamo qui in primo piano le divisioni nel centro-destra e il fantasma di Le Pen. Ultimatum di Salvini a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nessun veto all'alleanza nell'Unione Europea con la destra francese o con quella austriaca e tedesca. Meloni in un angolo, ora è costretta a scegliere tra le ombre nere dell'estimismo sovranista e l'abbraccio con i popolari. La Premier frena sul salario minimo, le opposizioni, inutile vedersi. E poi ancora vediamo, sempre sulla prima pagina della Repubblica, una fotonotizia. Ucraina, paletta, secchiello e bombe riapre la spiaggia di Odessa. Anche qui leggiamo migranti, 41 morti al largo di Sfax lasciati per giorni nella tempesta. Ed ora invece ci spostiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Vediamo in primo piano la via albanese. L'ironia del Premier Rama, italiani ammassati per venire da noi. Traghetti pieni di turisti diretti sulle spiagge e la costa di Tirana. Puglia a Smeralda, mentre il sindaco di Melendugno chiede al governo centrale strategie emirate per i comuni riveraschi. E poi ancora vediamo, leggiamo taglio alto, il Bari c'è, altri colpi in arrivo. Brenno in città chiuso per Sibilli. Ancora Serie A, Corvino completa il Lecce per la porta piena fiducia a Falcone. Ed ancora leggiamo politiche sui migranti tra realtà e retorica. Tragedia Lampedusa annegono in 41, lo leggiamo anche qui. Ed ora invece ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno per leggere le notizie legate al nostro territorio. Vediamo subito in prima pagina. La lite, la frase sciocca e poi la morte. Il dramma di Patrizia Nettis, i vicini sentirono le sue urla, mi è rovinato la vita. La notte tra il 28 e il 29 giugno la giornalista abbia una discussione in strada con due uomini. E poi ancora vediamo, taglio alto, Rama e tanti italiani in Albania, come lo sbarco della Vlora. Bufera sul Premier per l'accostamento all'esodo del 1991. La consigliera della Monaco, solo ironia. Ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, vediamo i giochi del Mediterraneo. Taranto, riconquista nuoto, canoe e vea e vela, calcio in quattro stadi. Ci spostiamo nelle pagine interne del Corriere del Mezzogiorno, l'abbiamo visto in prima pagina. Patrizia, la lite prima di morire, mi hai rovinato la vita. Nuove testimonianze sul dramma della giornalista discusse con due uomini. A gioia l'amico sotto shock, non c'è spiegazione, raggiunti tanti traguardi. E poi, anche questo l'abbiamo visto in prima pagina, tanti turisti in Albania per il Premier e di Rama e come l'esodo della Vlora. Vacanzieri italiani oltre adriatico e il paragone sui social. Dello Monaco, consigliere del Primo Ministro, dice che si è trattato solo di ironia. Ancora, inchieste, minacce e superconsulenti. L'AMGAS sull'orlo di una crisi di nervi. Con le comunali e le porte si moltiplicano, affoggia le voci di un'imminente privatizzazione. Dipendenti contro l'amministratore unico di Omede, favoritismi e troppe esternalizzazioni. E poi ancora, sempre tra le pagine interne del Corriere del Mezzogiorno, vediamo Nuovo Lucca dopo 83 anni da Cacucci, i volumi online e le isole di videolettura. La storica libreria di Bari, il regno degli studenti universitari, riaprirà a settembre, ospitando anche degli eventi. Continuiamo ancora a leggere le notizie legate al nostro territorio, spostandoci su Repubblica Bari. Vediamo in prima pagina. Spiagge libere, non troppo, ecco gli abusi per i lettini. E poi ancora taglio alto, festa privata, ma si paga il blitz. Scoperta a San Giorgio, una villa dove c'era un party illegale. Ora scattano le sanzioni. E poi ancora, vediamo una fotonotizia. La storia porta la spesa, assunto la favola di Stanley. Sfogliamo le pagine interne di Repubblica Bari. L'abbiamo appena visto in prima pagina. La festa era privata, ma si pagava il biglietto. Scatta quindi il blitz dei vigili. E' accaduto a San Giorgio, un fenomeno che si sta rivelando diffuso. Se affitta una villa e si fa una serata abusivamente. Scatta la sanzione anche per due locali in centro. Ancora leggiamo. Spiagge libere, ma solo a parole. Così è stata occupata la costa. La legge regionale impone il diritto di accesso al mare. Nelle aree non destinate ai lidi è possibile noleggiare ombrelloni e sdaio. Ma chi lo fa spesso si appropria di tutto l'arenile. Diventando uno stabilimento abusivo. Ancora taglio basso. Leggiamo i consumatori e l'assessore. Grazie per coinvolgimento, ma dovevate farlo a marzo. Questo è il caso trattato da Repubblica. Poi ancora, l'abbiamo visto anche questo in prima pagina. Per cinque anni porta le buste della spesa. Market lo assume, il sogno di Stanley. Si è trasferito in Puglia da circa 11 anni. Ogni mattina da Bari andava a Putignano e aiutava i clienti. Famiglia ha deciso quindi di fargli un contratto e adesso potrà far arrivare in Italia, della Nigeria, anche la moglie e suo figlio. Ancora, sempre su Repubblica Bari, sbarramento al 3% e tre preferenze più posti con la legge delle civiche. Il patto tra Michele Boccardi e Alfonso Pisicchio piace anche alle forze di maggioranza. In questo mondo ci sarebbero più posizioni da distribuire, soprattutto cambiando le regole per la nomina della Giunta. Ed ora invece ci spostiamo nelle sezioni locali della Gazzetta per leggere le diverse notizie legate a diversi territori. Quindi la Gazzetta di Bari, quella della Basilicata, della Bat, della Capitanata ed infine quella del Salento e di Taranto. Partiamo subito da quella di Bari che titola in primo piano Mangiano e fuggono senza pagare caccia e furbetti in piazze mercantile. E poi ancora la mazzata della polizia RC Auto, della polizza RC Auto, i baresi pagheranno un terzo in più. Ancora sempre sulla prima pagina della Gazzetta di Bari, vediamo Asse tecnologico Bari-Albania col polo fra Atenei. Ed ora invece ci spostiamo a nord della Puglia con la Gazzetta della Capitanata. Che invece in primo piano titola Stragio di San Marco, dramma familiare, spiegate a mio figlio perché non ha il padre. La moglie di Luigi Luciani scrive a Mattarella, chi nega la mafia venga a trovarmi. Sempre sulla prima pagina della Gazzetta della Capitanata vediamo Il centro-destra cerche il nome, non quello di De Leonardis. Il consigliere regionale si tira fuori, non mi candido, affoggia. Tra le altre notizie vediamo ancora Manfredonia, pescherie grandi, affari anche col fermo biologico. Mentre a San Severo, San Bernardino, Rione da riqualificare appello dei residenti. Ancora a taglio basso, leggiamo qualche titolo. Lucera ospedale al collasso da un mese senza ascensore. La protesta dei cittadini SOS al Policlinico. E dal nord della Puglia ci spostiamo nel sud con la Gazzetta del Salento. Che titola? Fasano, autista a bus, lascia a terra due immigrati di colore e a brindisi timori per il dormitorio. Vediamo la foto notizia. E poi ancora schiacciato da un escavatore, tre indagati a Noa per la morte di un giovane operaio, omicidio colposo. La sostituto procuratore Maria Vallefuoco ha chiesto il rinvio a giudizio per i presunti responsabili della tragedia. Tra le altre notizie, leggiamo ancora a taglio basso, a Lecce ecco i costi dei Lidi. Protesta sui social a brindisi prezzi come fossimo in Sardegna. Confimprese mostra i listini di alcuni stabilimenti balneari nel Salento. Ci spostiamo adesso nella BAT. Vediamo in primo piano danneggiati tre pannelli pubblicitari, trani, episodi in via Imbriani. Vediamo una foto notizia. E poi ancora criminalità ad Andria nella zona PIP, scatta l'allarme furti. La criminalità alza il tiro dopo gli ordini esplosivi ai danni dei commercianti. Taglio basso, vediamo a Barletta, parcheggio interrato, sorgerà in via Vittorio Veneto. Capienza totale per 110 autovetture e 10 moto. Ed ancora a Taranto leggiamo. Bandiera blu, festa a Leporano. Si lavora già per l'anno prossimo. Tra le quattro new entry nell'area ionica raggiunge Castellaneta, Ginose e Marugio. Ieri cerimonia al castello Muscettola. E poi ancora vediamo, sempre in prima pagina, sulla Gazzetta di Taranto. Comune, la maggioranza si blinda per il momento no a nuove alleanze. L'occalizione, l'affidabilità di chi vuole offrire sostegno e misurare sul campo. Ed ora invece ci spostiamo sulla Gazzetta di Basilicata. E leggiamo Roma taglia 4 milioni. Sanità privata nel Guado. La regione batte cassa, ma dei ministeri si solo a 5 milioni nel 2023. E poi ancora il pugno di Bardi su Melfi Stellantis deve dare certezze. Ed ora invece ci spostiamo sulle prime pagine dell'edicola del Sud, di Puglia e Basilicata e del Leccese. Vediamo, in primo piano, leggiamo turisti italiani in Albania come emigranti sulla Flora. Lo abbiamo visto anche sugli altri giornali. L'ironia di Rama sui vacanzieri. E poi l'intervento al San Paolo. L'Amiu ripulisce via Ciusa, sanzionati di 17 furbetti per l'abbandono dei rifiuti. Tra le altre notizie, vediamo taglio basso. Leggiamo alcuni titoli. Il codice della strada, multe a Bari, spicca per le violazioni e incassa 10 milioni. La BAT, seconda tra le province meno istruite d'Italia. Mentre a Borgo Mezzanone l'acqua potabile è finalmente nel ghetto, ma tornano i roghi. La sanità potenza, guardie mediche, da settembre arrivano i rinforzi. Ed ancora, sempre sulla prima pagina dell'edicola del Sud, del Leccese, leggiamo assurbo, aria irrespirabile, c'è il tavolo tecnico per scovare le cause. Mentre a Mene Indugno cade dal monopattino e finisce in coma, paura per una tredicenne. A Brindisi ancora leggiamo giochi del Mediterraneo e la città parteciperà in maniera attiva. Ed ora, come di consueto, chiudiamo la nostra rassegna stampa, spostandoci sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo, in primo piano, Cina, economia in deflazione. A luglio prezzi al consumo e la produzione in calo su base annua. Liquidità bloccata, timori per la crescita, a rischio l'obiettivo del 5%. E poi ancora vediamo costruzioni con una fotonotizia. Maeg Maxi Ponte da 55 milioni per le Olimpiadi di Parigi del 2024. Tra le altre notizie, sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore, vediamo gli under 35 in pensione e 74 anni con un assegno da 1000 euro al mese. E queste sono soltanto alcune delle principali notizie che troverete sui giornali di oggi. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.